Abbiamo da poco terminato la conferenza stampa, finalizzata a ripristinare la verità dei fatti su questo fantomatico nuovo stadio di calcio che il sindaco Melucci in campagna elettorale e successivamente diceva di voler regalare alla città. Lui parlava apertamente di costruzione di un nuovo stadio. Abbiamo dimostrato, carte alla mano, che si trattava solo ed unicamente di ristrutturazione. Una cosa è costruire, exenoso significa buttare a terra, bombardare il vecchio stadio e farne sorgere uno nuovo e altra cosa è ristrutturare l'esistente. Con il collega Massimo Battista abbiamo sviscerato le varie espressioni dalle prove documentali, da tutta la documentazione e, caro Massimo, è emerso che questa grande bolla mediatica del sindaco Melucci, questi rendering, queste vele che giravano per la città con questo fantomatico progetto, si sono rivelate soltanto una presa per i fondelli nei confronti della città e della tifoseria rosso-bluca. Lui gira i documenti in nostro possesso che abbiamo recapitato il giorno 16 agosto, in piena settimana di ferie, si evince il fatto che la Red Sport ha presentato la manifestazione di interesse tramite PEC, è stata presentata il 23 febbraio di quest'anno, 2023. L'anno scorso si parla di ristrutturazione dello stadio e rigenerazione e nuovi insediamenti nell'area di tutto il quartiere Salinella. Detto questo, la Red Sport e i passi successivi che doveva adempiere erano la polizza fedeliussorio da presentare e la costituzione delle associazioni temporanee di imprese per valutare chi erano i soggetti interessati per il fantomatico nuovo stato. Detto questo, poi successivamente a luglio scopriamo che la giunta delibera 8 delibere, il sindaco tra l'altro non presente e della Iagovune non c'è traccia. Quindi parliamo del 23 febbraio, il commissario ancora non era stato insiedato, quindi al di là di quello che noi stiamo vedendo in queste settimane, le diatribe tra il sindaco Rinaldo Melucci e il commissario straordinario Ferrarise, noi possiamo dire con certezza e con carte alla mano che quello stadio, chi ha detto, chi ha parlato di stadio nuovo, si parla di ristrutturazione. Noi siamo, così sgombriamo il campo da qualcuno che poi c'etichetta in una maniera che noi siamo contro, contro, contro. Noi siamo per i giochi del Mediterraneo che vengono effettuati nella nostra città come è giusto che sia e che lo stadio venga fatto e le gare vengono fatte nella nostra città. Quindi già l'assenza del sindaco Melucci è fisicamente e neppure è presente in videoconferenza quelle delibere di giunta in cui non c'era traccia del progetto stadio, già questa assenza ci ha fatto pensare e le risultanze ci hanno dato ragione. Ma la cosa più brutta è che il sindaco ha illuso la città, illuso i tifosi, far vedere questi progetti, questi rendering in cui lo stadio, il nuovo stadio sarebbe stato a momenti più bello strutturalmente dello Juventus Stadio. E chi non lo vorrebbe? La torre, l'albergo, insomma qualcosa di favoloso. Alla fine le bugie vengono a galla e i bugiardi hanno le gambe corte, anche quelli che occupano la poltrona di primo cittadino a Palazzo di Città.